interrompiamo le trasmissioni per un'ultima ora l'azienda olandese outer space lancia sul mercato un nuovo pacchetto di animazioni tutti i dettagli nel servizio del nostro inviato dall'olanda buongiorno è proprio così outer space destabilizza il mercato delle animazioni con questo nuovissimo big bucks così vengono chiamati questi pacchetti di animazione che outer space lancia sul mercato ad un prezzo incredibile breaking news così è chiamato questo nuovo pacchetto che comprende 53 animazioni 7 minuti di video con 35 texture e 19 nuovi eps per poco tempo si potrà accedere a questo pacchetto con il 25 per cento di sconto ma per tutti i telespettatori di questo canale sarà possibile acquistare questa incredibile animazione con il 30 per cento di sconto e quindi a soli 20 euro 20 euro coro a comprarle ritorniamo in studio ci scusiamo con i telespettatori con questo può succedere in diretta vi auguriamo un buon proseguimento delle trasmissioni pronto sì ma dove le posso comprare ciao